Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi vi propongo, come promesso, la ricetta della mia pizza alta. Per farla ci servono 400 ml di acqua, un cucchiaio di zucchero, 680 g di farina per pizza, un cucchiaio di olio di oliva, due bei pizzichi abbondanti di sale, 50 g di lievito madre essiccato. Per fare questa pizza io utilizzo il bimbi, e qui ho già messo acqua e zucchero, e ci aggiungo l'olio d'oliva. Lo faccio intiepidire per un minuto a 40 gradi. Dopodiché aggiungo la farina, il lievito madre, e due pizzichi belli abbondanti di sale. Qui uso queste indicazioni per impastare col bimbi, ma tenete presente che potete benissimo impastare anche normalmente. Se ce n'è bisogno aggiungo un paio di cucchiai rasi di farina, se vedo che l'impasto è davvero troppo umido, ma non esagero perché comunque è meglio che sia umido. Questa è la funzione spiga che permette appunto di impastare correttamente, facendo momenti di pausa tra un impasto e l'altro. Preparo e infarino queste due ciotole, e cerco di dividere l'impasto in due parti uguali, cerco così di fare due pagnottelle belle uguali e lisce. Copro con la pellicola trasparente, e con il forno spento, ma con la lucina del forno accesa, metto dentro i due impasti a lievitare. Questo sistema accelera di un po' la lievitazione, comunque gli impasti vengono belli alti, questo come vedete è dopo solo un'ora e già sono più che raddoppiati. Nell'attesa ho preparato patate, salsiccia, cipolla e tonno, polpa di pomodoro e l'immancabile mozzarella. E questi saranno i nostri condimenti per questa sera. Qui ho una piccola aiutante molto speciale. È arrivato il momento di stendere gli impasti, la parte che trovo più difficile in assoluto. Mi aiuto con la farina. Questi sono gli impasti più o meno dopo tre ore e mezzo, quattro ore. Mi aiuto oliandomi le mani in modo che non sia troppo appiccicoso e cerco di stenderla sempre con le mani e non col mattarello perché vedo che stendendola col mattarello risultava un po' più bassa e meno soffice, quindi preferisco stenderla con le mani. metto un leggero strato di pomodoro, cerco di non abbondare troppo perché ho visto che fa più fatica a cuocersi se abbondo col pomodoro e poi continuo con i fondimenti in base ai nostri gusti. finalmente in forno, forno 200 gradi per 25 minuti circa, poi dipende dal vostro forno. io metto a cottura, giro e inverto le teglie in modo che abbiano una cottura un po' più uniforme. Ed ecco qui la pizza pronta, nel frattempo è arrivato anche Luca giusto, giusto in tempo per darmi una mano. È una pizza molto buona al giorno stesso, ma è una delle poche che trovo eccezionale anche il giorno dopo perché rimane comunque bella soffice e anche riscaldata al microonde, quindi ottima da fare in più anche per i giorni successivi, per la merenda magari. Taglio ogni padellone in pezzi piuttosto piccoli perché comunque essendo l'impasto così alto è abbastanza... riempie abbastanza. Ecco, questo è lo spessore in confronto al mio dito, quindi direi un dito e mezzo circa, a volte mi viene anche più alta, a dir la verità, dipende dai giorni. Questo quindi è il risultato finale. Buon appetito a noi e anche a voi se la riproponete. Un bacio e al prossimo video. Ciao!